iPhone 16 Pro Max Non cambia assolutamente nulla Ovviamente non è del tutto vero Anzi le novità ci sono Solo che forse, anzi sicuramente Non sono utili ed essenziali proprio per tutti Ragion per cui oggi cerchiamo di ragionare proprio su questo O meglio quello che secondo me è giusto sapere O comunque è importante sapere su questi nuovi iPhone 16 Pro e Pro Max Tanto alla fine quest'anno sono uguali E quali sono anche queste novità Confrontandolo anche con iPhone 15 Pro Max ed S24 Ultra Ma c'è abbastanza da dire quindi iniziamo subito Partiamo effettivamente da un qualcosa che diciamo riusciamo a percepire Già soltanto toccandolo e guardandolo O meglio il design Che effettivamente non cambia tantissimo Però il frame in titanio quest'anno ha una finitura diversa Che sicuramente non dispiace Seppur oggettivamente è quasi forse impercettibile Dovete proprio mettere i due dispositivi uno di fianco all'altro E farci proprio caso Quindi è un qualcosa anche di diciamo forse Trascurabile Poi fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti È un piccolo dettaglio Le cornici del display invece Sono decisamente più ottimizzate Il che in questo caso devo dire Essere particolarmente piacevole nel quotidiano Perché vi garantisce una certa immersione Vi dà proprio delle belle vibes Diciamo Mentre per concludere Diciamo che Una volta proprio preso in mano questo dispositivo E confrontato anche con il 15 Pro Max Quello che si nota è che effettivamente È leggermente più grande Non eccessivamente Però a parer mio si sente E quindi va tenuto in considerazione Diciamo che se facciamo un piccolo confronto iPhone 15 Pro Max È bello tondo È piacevole È grande forse il giusto Mentre S24 Ultra È leggermente più Diciamo tra tantissime virgolette Scomodo Perché è più squadrato E quindi risulta forse quasi più grande Però di base ragazzi Anche qui stiamo veramente Andando Proprio a vedere il pelo Ok Stiamo andando proprio in dettaglio Stiamo guardando forse proprio dettagli Che magari noto solo io E che quindi sono anche Anche in questo caso Trascurabili E in un certo senso Non spostano il pensiero Quindi anche in questo caso Ditemi la vostra Però secondo me Sono dei dettagli Che potrebbero fare la differenza Ecco Una cosa interessante È che Apple Sul sito Nel momento in cui voi tappate Su Scopri di più di iPhone 16 Pro e Pro Max Dice una cosa sulla batteria O meglio Una batteria che dura ancora di più Vedrai che roba E beh ragazzi In questo caso Effettivamente È assolutamente vero Vi lascio qui un po' di dati Screenshot Che sapete bene Non essere tanto di mio gradimento Perché alla fine dipende Da tantissimi fattori Quindi a questi Ci vado ad aggiungere Proprio quello che penso Quella che è la mia esperienza L'utilizzo di questo dispositivo Proprio come smartphone E non H24 Come videocamera Per qualsiasi cosa Foto Console E chi più ne ha Più ne metta In questo caso Proprio da utilizzo Proprio da smartphone Lui ragazzi Addirittura Mi è riuscito a portare Con il 40% A sera E anche di più Spesso E quando dico sera Dico 20 Ma a volte va anche Oltre le 20 Quindi Una gestione della batteria Veramente eccezionale Ma adesso Ho tolto anche questa cosa Di smartphone Che mi dà molto di utilizzo Quasi base Che in realtà Poi non è Se lo utilizzo Anche in modo stressante Il dispositivo Quindi anche per fare Qualche foto Video Eccetera Eccetera Lui comunque Vi porta a sera Senza alcun problema Ci ho realizzato anche Un vlog Sul secondo canale E mi ha portato a sera Nonostante anche qualche Clipettina Qualche foto Eccetera Con il 20% Non ricordo nello specifico Ma oltre le 20 Siamo arrivati alle 22 Una cosa del genere Trovate tutto anche su quel canale Vi lascerò magari qualche clip Ma è veramente Assurda come batteria Quindi veramente Complimenti ad Apple Perché in questo caso Ha fatto veramente Un passo avanti Quindi molto bene E se lo vogliamo confrontare Con 15 Pro Max E S24 Oltre Effettivamente Qui lui Vince E riesce proprio a Far sentire Ecco la differenza E in questo caso Dovete aggiungere che io Lo smartphone Nel 90% dei casi Lo utilizzo sempre in 5G Perché non ho una linea Proprio potentissima Quindi veramente Top Adesso parliamo di Potenza Beh qui sotto Abbiamo il nuovissimo Processore di Apple A18 Pro Pensato per gestire Al meglio L'intelligenza artificiale Che ovviamente Ripeto Ancora non abbiamo Oggi E per favorire Prestazioni senza Precedenti Come si dice appunto Proprio sul sito Di Apple E adesso Cosa posso dirvi Beh sicuramente In questo caso Vi salto qualsiasi benchmark Perché sinceramente Non li gradisco Anche in questo caso Mi piace proprio Vedere nel quotidiano Come va E cosa si percepisce Nell'utilizzo Del dispositivo E in questo caso Anche stressandolo E stressandolo tanto Vi dico che Le differenze Non è che ci sono Più di tanto Lui Diciamo che Lavora Secondo me Meglio proprio Su quello che È il discorso Dei consumi Ma per il resto Siamo veramente Lì Nella modifica Magari di Una Che ne so Fotografia Con Lightroom Un RAW Oppure nel momento In cui state lì A giocare Funziona bene Va benissimo È un top gamma Quindi si comporta Molto bene Ma anche in questo caso Non è proprio Non ha proprio Quel qualcosa Che vi fa dire È però qui Veramente spinge Come un matto E batte tutti Anzi Forse magari Per iOS 18 Che ancora Non è ottimizzato Ci sono ancora Un pochettino Di bug Non so Per quale motivo Ma sotto Certi punti di vista Forse S24 Ultra Risulta anche un attimino Più scattante Togliete il fatto Dei 120 Hz Proprio delle animazioni Di Android Eccetera eccetera Anche per esempio Nelle esportazioni Con CapCut Ci sono delle cose In cui forse S24 Ultra Riesce a spingere Un attimino di più Per il momento Vediamo con gli aggiornamenti Eccetera eccetera Però comunque ragazzi Parliamo veramente Di piccolezze E quindi Bene così Mentre iPhone 15 Pro Max Confrontato ad iPhone 16 Pro Max Anche in questo caso Siamo lì Gestione delle temperature Bene Ma non benissimo Perché anche in questo caso Lui comunque A un certo punto Inizia a surriscaldare E anche in questo caso Purtroppo Devo dire che Entra un attimino In protezione Ho giocato Per un bel po' Arretto bene Però nel momento In cui uscite fuori C'è un bel sole Potente Prepotente Lui abbassa un po' Troppo la luminosità E sotto questo punto di vista Ormai è un problema Di Apple Che chissà quando Sarà risolto Però va bene così Per quanto riguarda Le prove Cioè va bene così Fino a un certo punto E dico ormai Non ci possiamo fare niente Però per quanto riguarda La potenza Siamo lì Forse vi ripeto S24 Ultra Sotto certi punti di vista Spinge un pochettino di più Saltando ora Il discorso Relativo al camera control Che diciamo Non mi ha straconvinto Ma io ho dedicato Un video Proprio intero Quindi andate a recuperare Quello lì Perché comunque Il mio pensiero Diciamo Non è assolutamente cambiato La penso ancora così Non lo approvo Sinceramente Parliamo un attimino Di foto e video Di quelle che sono Le possibilità Che effettivamente Questo iPhone 16 Pro Max Riesce a darvi Effettivamente Allora partiamo Da una funzione Che sicuramente Io non utilizzo tantissimo Però diciamo Che è Bello sapere Che c'è O meglio Il 4K A 120 fps Una cosa che poi Potete anche modificare In posto Molto interessante Comunque fatta bene È stata pensata bene Eccetera eccetera Però vi dico che Effettivamente Io non lo utilizzo Più di tanto Perché secondo me Ha proprio Dei casi specifici Di utilizzo Che non rientrano In quelle che sono Poi le mie esigenze Vi ripeto È bello sapere Che c'è Ma io mi fermo A un massimo Di 50 fps Perché poi Tutti i video Che registro Io sono sempre a 25 Quindi questi 120 Sono forse anche troppi Però c'è È importante Quindi in questo caso Alzo le mani Non c'è nulla da dire Ha fatto comunque Un grandissimo lavoro Apple Per quanto riguarda Il sensore principale Diciamo che Non cambia Se non per quanto riguarda Proprio la velocità Di scatto In questo caso La differenza Si sente Comunque a volte Risulta effettivamente Molto comoda Anche rispetto ad Un S24 Ultra E un iPhone 15 Pro Max E comunque Va detto anche Che è vero Che le lenti Sono diciamo Gestite meglio Soprattutto per quanto riguarda Le luci Che non realizzano Quel flerro Comunque quel disturbo Che a volte Da un po' fastidio Soprattutto con le luci Di sera Ma Va detto Anche che Non c'è poi Una differenza Abissale Con iPhone 15 Pro Max E magari Un S24 Ultra Diciamo che Potremmo ripetere Praticamente Le stesse cose Fa delle ottime Fotografie Ora potete controllare In maniera un attimino Più comoda Quella che è la temperatura La gestione dei colori Quindi se vi piacciono I colori un pochettino Più accesi Un po' alla Samsung Quindi un po' più contrastati Potete farlo direttamente Dalle impostazioni Comunque in fotocamera E quindi questa cosa Diciamo che È stata un po' Messa da parte Secondo me Seppur non di mio gradimento Anche in questo caso A me preferisco O comunque io preferisco Delle immagini Un attimino più flat Più diciamo Comode Poi da andare a modificare Ragion per cui Nella maggior parte dei casi Sto proprio Scattando in RAW Che mi sta dando Veramente un sacco Di soddisfazioni Funziona veramente Molto bene Cattura un sacco Di informazioni Mi permette di lavorare Le foto in maniera Veramente super super Interessante Recuperando i colori Le luci Arrivando proprio a quello Che è il vostro modo Magari di vedere la cosa Quindi il lato foto Veramente un bel lavoro Ma siamo appunto lì Sia con iPhone 15 Pro Max Secondo me Che con S24 Ultra Che a volte comunque Risulta un attimino più Definito Un po' più deciso In quelle che sono Le fotografie Mentre quello che forse Fa un po' la differenza È il nuovo sensore Ultra grandangolare Che forse nei video Ma ne parliamo a breve Non fa un grande salto Però nelle foto Soprattutto RAW Macro Mi ha dato veramente Un sacco di soddisfazioni Vi permette di realizzare Dei contenuti Comunque delle foto Veramente tanto tanto piacevoli Quindi nelle foto Il 48 megapixel L'ultra grandangolare Veramente tanta roba Quindi bel bel lavoro Da parte di Apple Per quanto riguarda i video Lui comunque rimane Lo smartphone migliore In assoluto Secondo me Non tanto proprio Per la qualità Perché ne abbiamo già parlato S24 Ultra Che iPhone Fanno dei video Veramente incredibili Ho realizzato Diversi vlog Sul secondo canale Andateli a guardare Anche lì Perché riuscite a percepire Proprio le differenze Nel momento in cui Li metto a confronto Che alla fine sono un po' minime Ma appunto Non tanto per la qualità Per la definizione Eccetera eccetera Neanche per la stabilizzazione Ma per l'affidabilità Di iPhone Che diciamo Se S24 Ultra Ci becca al Che ne so All'80% iPhone Ci becca al 95 Per dirvi Nel senso Riesce a gestire meglio Poi I cambi di luce Nel momento in cui Gestisce un attimino meglio Queste cose Poi qui c'è il log Che fa la differenza Lato video Diciamo che Apple ha saputo Spingere molto molto bene E quindi Va detto a questa cosa O meglio che iPhone rimane comunque Il top del top Per quanto riguarda i video Però per il resto Vi ripeto un po' Sempre le solite cose Ecco Diciamo che Oggettivamente Le differenze Non ci sono Comunque non sono neanche Essenziali per tutti Sia tra iPhone 15 Pro Max Che 16 Pro Max Che per quanto riguarda I ragionamenti Tra S24 Ultra iPhone 16 Pro Max 15 Pro Max Però Soggettivamente Continuo a preferire La gestione delle foto Un attimino più Flat Ma Fatemi sapere la vostra Anche perché Poi ragazzi C'è da dire un'altra cosa O meglio che Vero le fotocamere Sono più potenti Dei top gamma Eccetera eccetera C'è chi lavora meglio Chi lavora peggio E così via Però alla fine Dipende anche molto Da come andate Proprio a utilizzare Lo smartphone Per scattare una foto Per registrare un video Si possono fare ormai Video e foto Incredibili Con un po' tutti i top gamma Sono delle piccolezze Che sicuramente Fanno una differenza Però dipende anche Da come le utilizzate Queste differenze Non so se è chiaro Magari ci facciamo proprio Un ragionamento Al riguardo con un video Ci vediamo un po' di confronti Per quanto riguarda le foto Come utilizzarlo Come utilizzarlo Eccetera eccetera Potrebbe essere interessante Fatemelo sapere qui sotto Nei commenti Arrivati a questo punto Ragazzi Però direi che Non c'è neanche Troppissimo da dire Quindi io andrei Verso le conclusioni Partendo dal fatto Che iPhone 16 Pro Max Secondo me O comunque iPhone 16 Attualmente Rimane un dispositivo Un po' castrato Perché non è arrivata L'intelligenza artificiale iOS 18 Va aggiornato Perché ci sono Un po' troppi bug Un po' troppi dubbi Quindi va capito Un attimino Questa cosa Comunque Ho notato un po' Delle incertezze E quindi Non è che mi piace Più di tanto Quindi va aggiornato iOS 18 E appunto Non c'è l'intelligenza artificiale Quindi è uno smartphone Un po' castrato Un po' incompleto Quindi dobbiamo forse Aspettare ancora un po' Per capire effettivamente Tutto quello Che è il dispositivo In sé per sé E anche magari Proprio l'utilizzo Di questo camera control Che dovrebbe diventare Appunto Un accesso All'intelligenza artificiale Diverso Che dovrebbe garantire Una specie di utilizzo Alla Rabbit Il dispositivo Che un po' Ha fatto smattare Un po' tutti A me non mi ho mai convinto Infatti non l'ho mai provato Però ho visto i video In cui effettivamente Non convince nessuno Proprio per l'utilizzo Eccetera eccetera Comunque vedremo Sotto questo punto di vista Però per il resto Rimane un ottimo Top gamma Che però Diciamo Non consiglio Per esempio Che ha un iPhone 15 Pro Max Secondo me Forse iPhone 15 Pro Max È proprio Il dispositivo Da acquistare Attualmente Perché Lato rapporto Qualità prezzo Vi permette Di stare Al passo Suamente Con gli aggiornamenti E al passo Un po' Praticamente Su tutto Alla fine E sincero Anche mio fratello Proprio ha comprato Un iPhone 15 In realtà Un iPhone 15 Pro Perché è un dispositivo Un po' Più Piccolino Perché effettivamente Ad oggi si magari Riesce a trovare Ad un buon prezzo E per quello che vi offre Veramente un signor dispositivo Anche per quanto riguarda Il processore Che comunque è già pensato Appunto Per ricevere L'intelligenza artificiale Quindi Questo iPhone 16 Pro Max A chi lo consiglio? Bello consiglio A poche persone Sinceramente O meglio A quelle persone Che effettivamente Vogliono Il top del top E sanno Che lo cambieranno Tra 8 anni Quindi vale la pena Secondo me In questo caso Spendere un attimino Di più Investire Per avere L'ultimo dispositivo Tra l'altro Con una batteria Veramente incredibile Che poi Nel corso del tempo Magari Riuscite O comunque Riesce a reggere Un po' Gli aggiornamenti Eccetera eccetera Quindi ha senso E lo consiglio Magari a chi Effettivamente Vuole un top gamma Pronto a tutto Che però sa Che l'anno prossimo Cambia subito Perché effettivamente Se voi comprate Di anno in Anno Il dispositivo Sapete bene Che effettivamente Nel momento in cui Andate a rivendere Per acquistare il nuovo Ci perdete poco E quindi potrebbe Avere senso Vendere magari Se avete un iphone 15 pro max Comprare il 16 pro max E poi l'anno prossimo 17 pro max E così via Certo non è una cosa Che consiglio sinceramente Io lo faccio Sono sincero Ve l'ho sempre detto Per invidio Per parlarvene E per passione Se avete questa passione Fatelo Perché investire Nelle passioni Secondo me È sempre bello Divertente Piacevole Ci fa bene Però ecco Non è un qualcosa Che vedo proprio Di tanto sensato In linea generale Per la maggior parte Degli utenti Ecco Invece S24 Ultra Iphone 16 pro max Qui rientriamo In un meccanismo Infinito Sinceramente Android IOS Ne abbiamo parlato Proprio in un video Andate a vedere quello lì Perché secondo me Lì dico proprio Il tutto al meglio Spiego il tutto al meglio Perché è proprio Un video dedicato Però ecco In questo caso Vi direi Di puntare ad un S24 Ultra Se volete qualcosa Di un attimino più completo Per DeX Per l'intelligenza artificiale Che attualmente Comunque Samsung Sta veramente Lavorando benissimo E anche per la S Pen Che è qualcosa Che avete solo lì In Apple Avete iPad Con la Apple Pencil Eccetera eccetera Però sono cose Comunque diverse È un'interazione diversa È un dispositivo diverso Anzi è un dispositivo Anche in più Quindi dipende Da diversi fattori Però vi ripeto Lì trovate la risposta In quel video lì Qui vi dico Che effettivamente Sono tutti e due Spettacolari come dispositivi E comunque rimangono Tra i miei preferiti Quindi bene così Arrivati a questo punto Mi raccomando Fatemi sapere la vostra Qui sotto nei commenti Sono molto curioso Noi ci vediamo prossimamente Sempre qui sul canale Naturalmente Per nuovi video Ciao